L'Associazione Porta Romana anche quest'anno tra le protagoniste delle state reatine della processione dei Ceri in occasione del Giugno Antoniano, con una tre giorni tutta dedicata ai fiori. L'appuntamento con la prima giornata venerdì 24 sul Lungoviglino Bellagamba per una sfilata di moda a tema floreale, come ha dichiarato Andrea Zella, presidente dell'Associazione. Sì, anche quest'anno siamo presenti sul territorio come tutti gli anni e quest'anno in occasione della processione di Sant'Antonio da Padova per l'undicesimo anno organizziamo l'infiorata lungo via Porta Romana. Quest'anno peraltro abbiamo deciso di dedicarla al Giubileo della Misericordia e agli 800 anni dei Domenicani. Il clou della manifestazione sarà la classica infiorata a Porta Romana, dove transiterà la statua di Sant'Antonio. La prima giornata di venerdì, il 24, Lungoviglino Bellagamba, faremo una sfilata di moda. Il tema sarà sempre ovviamente quello dei fiori, mentre il sabato, già dal pomeriggio per tutta la notte, ci sarà una mostra lungo via Porta Romana, una mostra di artisti che vengono anche fuori dalla provincia di Riedi, della città di Riedi ed è una mostra particolare perché comunque abbraccia diversi rami, dalla pittura, alla scultura, al fashion style, alla fotografia, con il tema del fiore sempre al centro del nostro interesse. Domenica 26, poi, in occasione della processione, faremo questa sfilata ormai all'undicesimo anno lungo via Porta Romana ed è solo ed esclusivamente di fiori freschi.